Siamo proprio sopra quella che è la parte finale dei due torrenti che si incrociano e vanno a confluire in mare e questo è il tratto ammalorato che dopo le ispezioni da parte dei sub si è evidenziato che c'è praticamente un rischio di tenuta proprio della volta che copre i torrenti stessi. Volte a rischio cedimento sui torrenti sotterranei e questo è il motivo dunque dei lavori urgenti che hanno fatto scattare questa mattina una vera e propria rivoluzione viaria all'ingresso di Muggia a cominciare dal restringimento di carreggiata che interessa il tratto di via Battisti e largo caduti per la libertà come spiega il sindaco Paolo Polidori anche con l'ausilio di una mappa della nuova viabilità. Il primo intervento di restringere la carreggiata mantenendo i due sensi di marcia però anche questo è un primo intervento al quale seguirà un altro ancora più di messa in sicurezza dove si andrà ancora più in là perché il senso di marcia verrà mantenuto in direzione da via Battisti verso il centro e quindi il flusso che andrà verso Trieste dovrà essere percorso da via Frosinche qui alle nostre spalle. Sarà invertito il senso di marcia di via Santa Barbara che è prima dell'hotellido per intendersi, questo per creare una specie di rotatoria e permettere quindi ai mezzi, ai veicoli che vengono da via Roma di entrare tranquillamente in, di accedere a Caliterno o andare verso la zona del litorale. Anche le linee di autobus verranno interessate dalle modifiche, in particolare il percorso della linea 47. La precarietà delle volte ha spinto l'amministrazione ad agire in fretta e le nuove modalità non avranno purtroppo vita breve. I tempi per quanto riguarda gli interventi non saranno brevi perché bisogna andare appena a progettare a passare nelle varie commissioni per quanto riguarda la tenuta delle strutture e per quanto riguarda l'antisismica e poi appena fare la gara e l'affidamento ai lavori per cui sarà una viabilità che durerà in questo modo per parecchio tempo e ovviamente i disagi spero e penso che saranno i più contenuti possibili, però non ci sono alternative. Questo tratto di strada deve essere assolutamente chiuso il prima possibile perché non ci sono praticamente più i ferri che tengono la volta.